Mostre, laboratori, stand espositivi e un convegno sulle risorse dei territori e le valenze turistiche. Dal 2 al 4 giugno Santiodoro ha ospitato Vino Village, la mostra enogastronomica dell'eccellenza del territorio, una kermess dedicata al turismo e all'enogastronomia, con esperti del settore e tanti curiosi e visitatori per i quali sono stati preparati i menù dedicati. Protagonista principale di questa prima edizione è stato il vino e circa il 70% degli spazi espositivi è stato riservato alle cantine sarde. Presenti anche gli artigiani di arti e mestieri Teodorini, un'iniziativa per consolidare un turismo non solo concentrato nei mesi estivi, ma anche in quelli di spalla, che ha coinvolto i ristoratori del centro e gli esercizi commerciali. Nel corso della manifestazione si sono svolti due laboratori, la verticale del vermentino di Gallura del Consorzio San Michele, riservato agli operatori del settore, e quello del pane antico di Graziella Frau, che porta avanti l'antica tradizione del pane decorato sardo. Interessanti anche i laboratori dell'olio, del torrone, del latte e del miele, e il convegno che ha visto la partecipazione del professor Carlo Marcetti, nel corso del quale è emerso il tema della sostenibilità del turismo e dell'importanza dello scambio tra territori costieri e dell'entroterra. Una visione collettiva dell'accoglienza, condivisa anche dalla sindaca di Sant'Iodoro Rita Deretta, che ha sottolineato come Sant'Iodoro sia una porta per molte località non costiere.